Nuovo capitolo della querelle che vede coinvolti tre attori principali, governo, regione Campania e comune di Napoli. Si acuisce la tensione tra il primo cittadino Gaetano Manfredi, che da sempre prova a mediare, e il governatore De Luca sul piede di guerra per le risorse che spettano al sud sul tema dei rapporti con il governo Meloni. A fronte del durissimo braccio di ferro, in particolare con il ministro Fitto, il sindaco rinnova da tempo l'invito al dialogo istituzionale. Una posizione criticata dal numero due della regione, il vicepresidente della giunta, Fulvio Bonavitacola, che chiede a Manfredi di unire all'appello costruttivo una chiara presa di posizione sulle gravi responsabilità del ministero e del governo. Un richiamo però a cui Manfredi ha risposto mantenendo la propria linea. Ogni istituzione ha dichiarato deve dialogare con l'altra, dobbiamo pensare al bene dei cittadini. Infine la dura controreplica di Bonavitacola, il sindaco continua a rivolgere ridicole lezioni di procedura istituzionale, offendendo il lavoro e la dignità di chi con enorme pazienza e con tenacia cerca di difendere le nostre comunità, offrendo alibi a esponenti di governo che non conoscono il rispetto delle più elementari regole democratiche.